Una pronta risposta. Sì, mi metto al servizio. Un nuovo nome, una nuova famiglia, la comunità, il prossimo. Mani laboriose che aiutano, che fanno ciò che serve anche quando non è nelle proprie corde. Mani amorevoli che creano con pazienza. Mani umili per piccoli gesti che fanno cose grandi. Mani silenti che sgranano lodi e preghiere al cielo. Mani che accompagnano i bambini che preparano il nostro futuro. L'età avanzata non vi permette più di essere attive come vorreste, sorelle, ma noi vogliamo dirvi grazie. Grazie per l'amore verso Gesù Cristo che avete reso vivo con le vostre mani. Un dolce profumo da seguire. Ringraziamo Chiara per la sensibilità e per le meravigliose parole. E adesso lascio la parola all'assessore. Andiamo al posto.